Al Renato Ruggeri di Villa Vomano, il Ponte Vomano cerca i primi punti stagionali per iniziare la rincorsa. L'Alba Triatica, invece, vuole replicare il risultato di una settimana fa con il Casalbordino. Mister Piccioni, rispetto alla sfida con il Sambuceto, cambia qualcosa. Titolari Gian Giacomo Dorazio ed Andrea. Mister De Amicis, invece, schiera Di Stefano e Neri al posto di Giovannone Branno. Al nono, prima occasione per gli ospiti. Passamonti riceve in area, Farnese blocca in due tempi. Dieci minuti dopo, primo squillo del Ponte Vomano, con una conclusione centrale dal limite di Basilico. Alla mezz'ora, un tentativo per parte. Prima torre in patta di testa senza successo, su un cross di Icramella. E, poco dopo, punizione sulla tre quarti di Borrini. In area arriva Gian Giacomo, ma Barduanni è bravo a chiudere lo specchio. Al trentaquattresimo, Torre cerca di battere Farnese, con una conclusione morbida, che sorvola la traversa. Sul finire del primo tempo, sempre il numero nove albense, si incarica di battere su calcio di punizione da lontanissimo. Il tiro potente è alto. Si va a riposo sullo 0-0. Con le riprese di Maria Carannante, andiamo al secondo tempo. L'Alba torna dagli spogliatoi in modo estremamente aggressivo. Dopo cinque minuti, Torre verticalizza per Icramella, che entra in area. Farnese si rifugia in corner. Due minuti dopo, ghiotta occasione sempre per gli ospiti. Icramella calcia forte. Farnese respinge. Da dietro arriva Censori, che manda la sfera sull'esterno della rete. Torre all'ottavo si libera bene, ma calcia male. E il preludio al gol. L'Alba passa in vantaggio al nono. Il solito Icramella calcia. Farnese respinge male. Raccoglie Neri, che mette un pallone teso per Torre, che a portavodano sbaglia. 0-1. Reazione del Ponteomano con Polisena, che si libera di qualche avversario, e calcia impreciso. Al ventisesimo, i padroni di casa sfiorano il pari. Porrini serve Monaco, che calcia potente. Di Stefano salva tutto sulla linea. Subito dopo, l'Alba ha due occasioni per raddoppiare. Farnese respinge un tiro di Icramella. Da dietro arriva Di Serafino, che non trova la porta. Minuto 28. Torre, servito da Icramella, riesce a scavalcare l'estremo di casa. Cernaz libera l'area. L'ultima occasione del Ponteomano arriva al 31esimo, con Polisena, che si gira in area, ma calcia alto. Allo scadere del match, l'Alba la chiude. Grande slalom in contropede di Branno, che serve torre sul filo del fuorigioco. Il numero 9 non ci pensa due volte, e calcia dalla tre quarti, battendo Farnese fuori dai pali. Termina 2-0. Ancora una sconfitta per il Ponteomano, che resta a zero punti dopo sei partite. Per l'Alba Adriatica, invece, seconda vittoria consecutiva, importantissima, che fa morale e classifica. Mister, un'altra sconfitta, ma come si esce da questo momento? Sicuramente non come abbiamo fatto oggi, perché oggi, oltre alla sconfitta, è mancata anche la prestazione, cosa che nelle ultime quattro partite invece avevo visto. Oggi ho visto una squadra che continua a fare degli errori clamorosi, prendiamo dei gol clamorosi. Non ho visto quella cattiveria, quella voglia che serve per uscire da questo momento. Però se ogni domenica ripetiamo le stesse cose, vuol dire che non sono più casualità, ma sono dei limiti. Cercheremo di lavorare su questi limiti, ma comunque dobbiamo cambiare qualcosa a livello mentale, perché così sicuramente è difficile. Alba Adriatica ha meritato di vincere senza far nulla, ha approfittato dei nostri errori, dei nostri sbandamenti. Abbiamo giocato con la paura, abbiamo giocato con tratti, invece nel calcio non si può giocare con la paura. Siamo qui con Lorenzo Neri, è stata vinta una gara difficile su un campo difficile. Sì, era stata proprio una gara sofferta, che noi abbiamo preparato molto bene nella settimana. Sapevamo che loro erano nelle parti basse della classifica e volevano fare risultato, però noi ci abbiamo messo del nostro, il mister ci ha aiutato con tutto quello che ci ha dato, il modulo, i schemi e tutto quanto, è andata bene. Sinceramente questo era il mio esordio da titolare in eccellenza, però mi sono trovato molto bene grazie all'aiuto di tutti quanti. ho regalato un'assist per il primo gol e sono molto soddisfatto perché ho un passato non facile calcisticamente. Quindi sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto e ci prepariamo per la prossima partita che sarà molto più difficile.